buongiorno cari amici la pace dei sensi guardate dove siamo oggi siamo alle cascate di monte gelato monte gelato provincia di roma qui vicino da noi pensate alla cosa assurda anche all'ingresso del parco indovinate un po obbligo di mascherina guardate che è bella la mia mascherina se capirete da queste parti venite a fare un salto che vale veramente la pena